Ragazzi buonasera, buongiorno, bentornati, nuovo video oggi su UFL, spero state passando buone vacanze, a breve poi fra un mesetto e poco si riparte con FC25, a breve proverò la beta, quindi poi quando potrò vi dirò qualcosa, torneranno le review e tutto quanto. Sto giocando poco a FC24 ormai quindi ovviamente non sto più facendo review come avevo già anticipato. Parliamo brevemente di UFL oggi, ragazzi vi metto un gameplay intanto in sottofondo che oggi ho giocato un po' in live, l'ho provato perché comunque è gratis, lo potete provare anche voi da oggi fino al 4 agosto, per Voyage al 3 dovete scaricarlo semplicemente nello store e vi parlo brevemente di quello che è stato in queste due ore e mezzo, ho fatto quasi una decina di partite, io l'avevo già provato a gennaio e l'ho trovato migliorato onestamente, da gennaio secondo me hanno fatto un buon lavoro ma il gioco è veramente ancora molto 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 lontano da quello che è FC e secondo me non va tanto messo nel paragone con FC ma più con un eFootball e poi ci arriviamo. Cosa mi è piaciuto? Allora mi è piaciuto questa cosa della reputazione squadra ovvero che tu giocando salendo di divisioni aumenti la reputazione della tua squadra e per ingaggiare i giocatori sul mercato non basta avere i crediti per comprarli che in questa beta si fanno molto facilmente ma devi anche avere abbastanza reputazione. Per dirvi Cristiano Ronaldo ti consuma 150.000 di reputazione su quando starti hai 280 mi pare 270 se vai a comprare Bellingham anche se i crediti sono altri 150.000 tipo di reputazione e non ci staresti dentro. Se invece vai a ingaggiare ad esempio, non lo so, cito un giocatore a caso della Juve, Locatelli, per dire Locatelli avrà una reputazione molto più bassa e quindi rientra nella tua reputazione totale della squadra. Questo mi è piaciuto molto, i tratti dei giocatori diciamo che sarebbero un po' tipo i playstyle si può dire, anche non mi è dispiaciuta come cosa, non ho ben avuto modo di capire quanto influiscono perché è comunque una beta ma tipo c'è quello che migliora il primo controllo, quello che migliora la determinata skill, quello che migliora il comportamento difensivo e anche quelli di farmi giocando. Quindi più giochi, i giocatori come se salissero di livello e puoi andare a spendere questi punti abilità su di loro per migliorare queste cose. Mi sono piaciuti i menu che comunque sono abbastanza intuitivi, molto più secondo me di eFootball, molto più curati, un buon design anche se molto copiato così come le tattiche da ovviamente FC ma ci sta perché non prendere qualcosa in prestito. Mi è piaciuto lato gameplay, lo switch, molto preciso, ogni tanto seleziona un po' a caso ma se vai tu a switchare a mano, molto preciso, questo mi è piaciuto perché non è scontata come cosa. Mi è piaciuto che comunque c'è differenza tra i giocatori scarsi e quelli un po' più forti anche quando ho avuto contro squadre molto complete con Messi e compagni. Ovviamente questo porta un po' il pay to win che qua non c'è da cosa ho capito perché qua non ci sono i pacchetti, ci sono queste skin, questi aspetti da mettere sui giocatori che sono come stile intesa, vanno a boostare il giocatore. Però comunque rimarrà un play to win se questa sarà la struttura perché se tu non devi shoppare per avere le carte migliori e tutto quanto devi giocare tanto, farmare tanto. Un po' come nei giochi del loot, il shoot and loot come è stato First Descendants e altri giochi se avete presente usciti recentemente, è come un diablo per capirci, devi farmare tanto, farmare giocando e cercando ovviamente di andare a vincere le partite. Per il resto il gameplay raga è veramente tanto macchinoso, tanto, anche se io qua tipo avevo Gundogan, poi ho comprato Zairemery con Ronaldo, qualche parvenza di micro movimento c'è, c'è un po' di fluidità quando muovi il giocatore, non è che sembra sempre piantato su dei binari e tutto quanto, ma ovviamente molto lontana da quello che è su FC e questo può dare più parvenza di gioco di calcio, ma dopo ci arriviamo, parlerò anche di questo. E quindi molto macchinoso i giocatori, non mi è piaciuto che in difesa, non c'è molta CPU e questo è un bene, ma in difesa se non mi dai la CPU devo poter muovere i difensori un po' più rapidamente, soprattutto con l'L2, mentre qua al momento è un gioco molto vecchio stile, tipo anche FIFA 19, o corro addosso perché sono sicuro di prendere la palla o scappo verso la porta, perché l'affronta con l'L2 è veramente difficoltoso, cioè intercettare linee di passaggio non mi è sembrato il focus e anche qua, vabbè, questo è più a gusti personali, però secondo me un pochettino più di rapidità con l'L2 non sarebbe una cosa brutta. I passaggi purtroppo il lock molto disastroso al momento, la palla sui passaggi corre tanto all'inizio, poi improvvisamente è un po' come se si stoppasse, rallenta tantissimo, anche questo si può dire magari una cosa reale, ma non del tutto secondo me in verità, perché se un giocatore nella realtà dà comunque molta forza, la palla percorrerà per tanto tempo a una determinata velocità sempre uguale, mentre qua veramente un filtrante parte a cannone, sembra che sparano con un razzo e poi improvvisamente rallenta sempre di più. Filtrante che ho trovato molto P, difficile da difendere se il giocatore parte, poi ovviamente mancano tutte le meccaniche, player lock e quant'altro che conosciamo su FC. La corsa dei giocatori non è proprio bellissima, tipo quella di Ronaldo, molto meccanica, molto strana, non lo so, molto irrealistica anche se vogliamo, è veramente ambigua così come quella di altri giocatori e se premi la corsa, e questo ci può anche stare, da una parte scordatevi di avere della rapidità del controllo mentre siete in una situazione di rapidità, cioè già i micromovimenti sono quelli che sono, se correte proprio scordatevi il giocatore come se potesse praticamente solo andare dritto. Le skill non mi sono dispiaciute, soprattutto la roulette che su FC ormai è sui vecchi FIFA da anni che fa un po' schifo, qua molto bella, molto carine le skill, sembrano anche abbastanza efficaci, anche se non è un gioco che si basa su quello, come vedete qua ad esempio il mio Rudiger si era stoppato, questo è un altro problema che capita ogni tanto, purtroppo i giocatori si bloccano, però tutto sommato secondo me con un altro po' di lavoro, un annetto o poco meno, se continuano così potrebbe già essere meglio di eFootball e per molti lo è già adesso, ed è lì che secondo me si va a incastrare, perché FC offre tutta una serie di cose e poi di contenuti, qua non c'è nulla da fare ragazzi di fuori di giocare, i famosi lamentene non esce nulla stasera su FC, qua non c'è niente ragazzi, c'è un pass molto streaming sito, qualche obiettivo, è una beta per carità, però adesso è tutto giocare, che io sono un amante del gameplay e ben venga per carità, però immagino che tante persone potrebbe alla lunga essere un po', non ti viene da loggare dentro il gioco, da entrare dentro il gioco, ma vi dicevo, secondo me potrebbe essere meglio di eFootball alla lunga, perché il gameplay lo trovo già molto spigliato per essere ancora in una fase beta da poco uscito dall'alpha, a differenza ad esempio appunto di eFootball, qua avete il recap partita dove vi danno i crediti e eventualmente la punti reputazione, qua ero ancora nelle partite di classificamento, quindi non avevo i punti reputazione qua, poi salendo nelle divisioni e giocandoti da anche la reputazione, però è un gioco che io onestamente non riuscirei a giocare più di tanto al momento per questo gameplay, ehi, sono passato dopo su FC che sono andato a giocare, raga, quando noi diciamo i giocatori che oggi non si muovono, su FC si muovono dieci volte che qua, non so come dirvi, ecco, quindi può andare bene magari per quella fetta di pubblico completamente esausta da FC, dalla EA che non sopporta più determinate cose, e per chi magari è football e lo sente un po' stretto, comunque anche quello magari un po' che non si aggiornano, che non tiene il passo del tempo, e per chi non ha tante pretese, magari gioca ogni tanto, magari ha famiglia, adesso vado un po' avanti, raga, che qua ero in pausa, magari ha famiglia, torna, questo è il mercato, vuole fare giusto due partite, senza impegno e tutto quanto, ma anche qua, secondo me, alla lunga, come ogni gioco online, poi usciranno le tattiche rotte, usciranno le cose rotte, tipo, già oggi mi hanno detto tira più a giro, effettivamente si segna tanto con i finesse, piuttosto che negli altri modi, quindi non lo so, è un ecosistema che se si verrà a creare, il gioco verrà giocato e seguito, qua sono gli aspetti, queste skin che dai, questi stili intesa, che non ho ben capito, quindi non mi addentro troppo, anche questo, secondo me, rischia di diventare un po' pesante, come tutti i giochi online ormai al giorno d'oggi, però non può mai competere con FC, e il discorso, mi sembra più calcio questo che FC, lasciamo perdere appunto il discorso che qua è una beta, non c'è gente al momento che fa i video come anche io, mi ci metto le tattiche migliori, ste robe e tutto quanto, e arriveranno anche qua se il gioco prenderà piede, l'altra cosa ragazzi è che FC noi lo intendiamo sempre in un modo dove partiamo, il day one iniziamo a giocare, cerchiamo le tattiche più rotte, iniziamo a giocare con i doppi passi, skill, tiri al volo, se tu immaginate le persone, io ho alcuni amici che non lo comprano da anni, ma magari lo ricompreranno e fanno semplicemente la carriera, o magari semplicemente si mettono a giocare online senza pretese, non guardano Twitch, non è che vanno su YouTube a cercare tattiche rotte eccetera, cazzo FC sembra un gioco di calcio ragazzi, se tu lo giochi come un cristiano normale, è un gioco di calcio, come giocavo io al bar dieci anni fa nel 2014, ovvio che se tu vai online, vuoi vincere come tutti, come giusto che sia, devi adattarti a come gioca la gente, diventa uno spam di meccaniche rotte, di doppi passi, driven pass e tutto quanto, ma è così ragazzi, il gioco dipende come lo giochi, se tu lo giochi come giochi questo, che vabbè ha meno meccanica, ma accendi senza impegno e ti metti a schiacciare X e tiro e cross, cazzo FC ha una grafica comunque importante, e tutta una serie di cose che ti sembra di stare dentro una partita, molto più di quello che è questo ragazzi, ma anche football, cioè questa storia di far passare questo gameplay più macchinoso come realtà, non lo so, a me non è che convince tanto, perché anche su football poi se parli con i pro ci sono le cose rotte, tutto quanto che calcio lo metti da parte, ovvio che football ha una community più casual di quella che può avere FC, i portieri tra l'altro ragazzi parano tantissimo, soprattutto quando prendi quelli forti, quindi secondo me il discorso calcio è sempre un po' relativo, dipende come uno gioca il gioco, a me personalmente non mi interessa giocare come il gioco del calcio, di conseguenza lo gioco un po' come mi piace a me, come sapete, comunque questo è il mio giudizio, secondo me tutto sommato non male, guardate qua la palla come ha rallentato, però non è un gioco che al momento sicuramente puoi impensire la EA, ecco quando sento finalmente esce UFL forse a ottobre, in teoria verso autunno, non gioco più FC penso che sarà così solo per quelli che sono proprio esausti dalla EA, per tutti gli altri ragazzi questo non è un gioco che alla lunga passata poi la novità può tenere botta, però vedremo, ben venga la concorrenza, si stanno comunque impegnando, stanno ascoltando la community e stanno lavorando tanto, ci vogliono soldi, ci vuole tempo, ci vogliono capacità, ci vogliono risorse, tutta una serie di cose per creare un gioco di calcio, non è come fare un FPS uno sparatutto che ne esce uno al giorno praticamente in beta, quindi vediamo, bravi comunque, fatemi sapere voi se avete provato, cosa ne pensate tutto quanto, ci vediamo al prossimo video che penso sarà sulle novità di Ultimi Team che usciranno la settimana prossima, ciao raga, buon weekend a tutti.